Un suggestivo percorso enogastronomico per le vie del paese, alla riscoperta delle tipici itallocali, preparate con cura dalle donne del posto e accompagnate dal vino locale, insieme a tanta buona musica. La quindicesima edizione della Festa delle Antiche Tradizioni di Roccadarce ha mantenuto le promesse riscoprire e promuovere la terra di Ciociaria, puntando sulle sue eccellenze. Anche quest'anno Roccadarce, grazie anche al patrocinio della Regione Lazio, della comunità montana, dell'Unione dei Comuni, della Proloco, di tutti i volontari, abbiamo allestito questa manifestazione che oramai ha preso un po' la scena provinciale, non solo perché qui questa sera giungono da tutte le parti della provincia, della regione e anche fuori regione. Direi che lo spessore è notevole, il borgo di Roccadarce rimesso a posto, devo dire, con tutte le sue facciate rifatte, con tutti i suoi vicoli, si presta molto al turista che viene. Tanti volontari del paese che per settimane si sono adoperati affinché i centinaia di visitatori accorsi da ogni parte della provincia potessero godere delle bellezze del borgo Ciociaro, rivivendo quelle tradizioni e quei sapori di un tempo che oggi rappresentano l'eredità del futuro. Io vengo ogni anno qua e ogni anno in questa festa vengo perché è bella di vedere tutta questa gente, insomma, allegria. Molto bella, molto calda, insomma, ci sono tanti stand enogastronomici, tutte cose casarecce, insomma, che attirano tante persone della provincia di Frosinoni. Bella, una bella serata. Abbastanza singolare, fa parte della sciuciaria nostra. Noi, grazie a un gruppo, a una macchina organizzativa, facciamo in modo che questo evento ogni anno sia qualcosa di veramente eccezionale. Volevo ringraziare, appunto, siamo arrivati alla quindicesima edizione, grazie all'impegno dei tanti volontari. In primis volevo ringraziare tutta la cittadinanza rocchigiana che si è impegnata perché veramente è una macchina organizzativa.